Mie carissimi salve, allora questo è un brevissimo video di qualche secondo per dirvi grazie sto notando l'affezione che avete nei miei confronti ed è reciproca nonché moltiplicata all'ennesima potenza e allora questo video perché? Perché per festeggiare i miei 500 preziosissimi iscritti avevo indetto un giveaway ci tenevo, visto che l'autrice del libro che avevo messo in palio si era prestata a questo premio che volevo mandare in maniera così cara, sentita e gentile, appunto ci tenevo a dare un feedback e così le vincitrici che alla fine sono state due perché per errore, ma nulla accade a caso per errore ho assegnato lo stesso numero a due persone ed è stato sorteggiato proprio quello quindi è arrivato il libro dell'autrice Amori letterari di Maria Laura Simeone alle due ragazze, a Giulia e Stella e ho chiesto loro se mi potevano mandare un qualcosa al libro di ciò, ma chiaramente non per me ma per farne questo piccolo video, Giulia è riuscita a mandarmi una foto e Stella mi ha mandato una mail, vi metterò lo screenshot quindi io ringrazio Maria Laura Simeone che è stata gentilissima abbraccio Stella e Giulia e abbraccio tutti voi, a presto a presto